Infatti un atomo di alogeno può estrarre un atomo di idrogeno da un alcano. L'estrazione di idrogeno fornisce all'atomo di alogeno un elettrone che si accoppia con l'elettrone spaiato dell'alogeno, ma l'altro prodotto è sempre un radicale, perché appunto si spaiano sempre elettroni. Tale comportamento è caratteristico delle reazioni radicaliche. E inoltre un altro modo in cui i radicali possono reagire è quello di combinarsi con un composto avendo un legame multiplo per formare un radicale di dimensioni maggiori. I radicali alchilici si classificano in primari, secondari e terziari in base all'atomo di carbonio che lega l'elettrone spaiato. La stabilità relativa di una specie chimica è inversamente proporzionale alla sua energia potenziale e poiché è un radicale primario e ha la maggiore energia potenziale, tale radicale è il meno stabile. La stabilità dei radicali infatti segue quella dei carbocationi, di conseguenza un radicale terziario è più stabile del secondario che a sua volta è più stabile del terziario, più stabile ancora del metilico. Anche se i radicali alchilici sono privi di carica, il carbonio che rega l'elettrone dispari è carente di elettroni, perché appunto ha un elettrone spaiato. Pertanto, i gruppi alchilici legati a tale carbone esercitano un effetto stabilizzante per iperconiugazione e la stabilità del radicale è tanto maggiore quanto maggiore il numero di gruppi alchilici legato ad esso, ecco perché il radicale terziario è più stabile di un secondario, più stabile di un primario, più stabile del metilico. Gli alcani reagiscono con i primi tre membri della famiglia degli alogeni, fluoro, cloro e bromo, e non reagiscono però in modo apprezzabile con lo iodio. Questa è a causa dell'energia di attivazione della formazione dei radicali, che per lo iodio sono molto molto alte, di conseguenza la reazione non avviene. Con il metano invece la reazione genera un...